Sempre più di moda e diffusi soprattutto tra gli adolescenti, i tatuaggi temporanei all'ennè possono provocare allergie e dermatiti. L'avvertimento arriva dai pediatri in occasione della presentazione del VI Congresso Nazionale in corso a Genova in questi giorni. Nei bambini e negli adolescenti italiani, affermano i pediatri, è stato riscontrato un sensibile aumento di reazioni allergiche ai cosiddetti tatuaggi lampo realizzati con l'ennè, in potenzialità fortemente allergizzanti. Prodotti artigianali non controllati che restano a contatto della cute per almeno due settimane. Infatti al contrario dell'ennè puro che non determina reazioni allergiche, il colorante che aumenta la persistenza del tatuaggio e gli altri pigmenti aggiunti possono determinare reazioni allergiche.